Ciao e benvenuto nel mio canale. Oggi parleremo di come creare un team per sviluppare videogiochi. La creazione di un team di sviluppo di videogiochi è un passo importante e cruciale per il successo del tuo progetto. Ecco alcuni consigli su come puoi creare un team efficace per sviluppare il tuo videogioco. Determina le competenze necessarie. Prima di reclutare membri del team, devi capire quali competenze sono necessarie per il tuo progetto. Ci sono diverse posizioni che potresti voler includere nel tuo team, come programmatori, artisti, designer, scrittori, musicisti e tester di giochi. Determina quali sono le competenze che ti servono per il tuo gioco e cerca persone che siano in grado di fornirti quelle competenze. Cerca membri del team. Ci sono molte piattaforme online dove puoi trovare potenziali membri del team. Siti web come LinkedIn, Indeed, Monster e Glassdoor sono ottimi posti per iniziare la ricerca. Puoi anche pubblicare annunci su forum di sviluppo di giochi, gruppi di Facebook e altre comunità online. Non dimenticare di chiedere ai tuoi amici e colleghi se conoscono qualcuno che potrebbe essere interessato a unirsi al tuo progetto. Valuta i candidati. Una volta che hai trovato alcuni candidati, devi valutarli per assicurarti che siano la scelta giusta per il tuo team. Fai interviste e chiedi loro di mostrare i loro lavori precedenti. Chiedi loro quali sono i loro obiettivi professionali e di cosa sono capaci. Costruisci una cultura di squadra forte. Una volta che hai trovato i membri del tuo team, è importante costruire una cultura di squadra forte. Fai in modo che tutti si sentano coinvolti e ascoltati. Organizza riunioni regolari per discutere del progetto e stabilire obiettivi comuni. Assicurati che tutti i membri del team abbiano la possibilità di contribuire e di esprimere la propria opinione. Fornisci risorse e strumenti adeguati. Per garantire che il tuo team possa lavorare efficacemente, è importante fornire loro le risorse e gli strumenti adeguati. Ciò può includere strumenti software, hardware e di comunicazione. Assicurati che tutti i membri del team siano in grado di accedere alle risorse e di utilizzarle in modo efficiente. Con questi consigli, puoi creare un team di sviluppo di videogiochi forte ed efficace. Ricorda di mantenere una comunicazione aperta con i membri del team e di lavorare insieme per raggiungere i tuoi obiettivi di sviluppo di giochi. Grazie per aver guardato questo video e buona fortuna nella creazione del tuo team di sviluppo di giochi.